Intanto, intanto ci sarà lui Bene ragazzi, oggi torniamo a parlare del kit RTF dell'iShine, il nuovo S4 Quel kit che ho presentato sul canale qualche tempo fa Ve lo lascio qui sotto in descrizione il video dove ho parlato del drone Di tutti i vari componenti che sono all'interno di questo kit Però oggi in particolare andremo a fare la cosa più importante Il test in campo Però ragazzi, e specialmente per te che stai guardando questo video Credo che stai entrando adesso nel mondo dell'FPV Ci sono delle fasi, c'è una fase preliminare da seguire Prima di andare a fare il test in campo E quando uno sta iniziando, anche a me è successo Tante cose sono difficili da capire Tante cose non vengono naturali Il semplice utilizzo del radiocomando Il semplice solamente caricare le batterie Insomma, ci sono quelle cose da sapere Prima di andare a fare il test Ecco perché questo video si suddividerà in due fasi La prima fase dove andremo a preparare il drone E la seconda fase dove andremo fisicamente a provarlo in campo Quindi mettiti comodo, prenditi un bel caffè E iniziamo subito Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto Iscriviti al canale, attiva la campanella E lascia un bel like se il video ti piace Così riuscirai a supportare il mio canale A supportarmi così potrò portare sempre contenuti nuovi e interessanti Primo passo fondamentale e necessario È caricare le batterie Ma come si caricano queste batterie date in dotazione? Allora è semplicissimo Perché voi vedete la batteria che viene data Ecco questa è nel kit Che ha due cavetti Uno bianco Ok? E uno giallo Questo giallo servirà per alimentare il drone Quando la batteria è carica E questo bianco servirà per caricare la batteria Per caricare la batteria Servirà il caricatore dato in dotazione Che ha l'ingresso per l'alimentatore Che è un ingresso per un alimentatore tradizionale da pc Che anche questo viene dato in dotazione E poi dall'altro lato Vedete che ci sono questi slot bianchi Dove dovremo semplicemente andare a connettere il cavetto bianco della batteria Quando collegate la batteria Vedrete qui il display che si accende Lui fa tutto praticamente in automatico E quando finisce di caricarsi Basta che staccate la batteria E riattaccate l'altra Se la batteria è pienamente scarica Più o meno ci impiegherà un'ora Quindi un'ora per ogni batteria Devo dire però una cosa su questo caricatore Purtroppo questo caricatore può solamente caricare le batterie Perché? Vi spiego un attimo il concetto e l'utilizzo di queste batterie Queste batterie lipo devono essere cariche Ma devono essere cariche solamente quando le usate Non le potete lasciare cariche Questo perché all'interno della batteria la chimica poi si deteriora La batteria si gonfia e poi non funziona più bene Quindi queste batterie se non vengono utilizzate Devono avere un'alimentazione di storage Devono raggiungere un'alimentazione di circa più o meno 3.7 volts per cella Così da poterla conservare Non la conservate né carica né scarica Questo perché ve lo dico Perché questo caricatore Ops È caduto qualche cosa Questo caricatore può solamente caricare Ci sono caricatori molto più performanti E molto più costosi Che riescono a fare anche lo storage della lipo Quindi se voi andate a volare E non scaricate tutte le lipo Potete attaccare quella lipo a quel caricatore che comprate successivamente E quel caricatore ha questa funzione chiamata storage Che porta la lipo a 3.7 volts Quindi in una condizione di storage In quella condizione la lipo può restare lì mesi e mesi e mesi Senza deteriorare Però ragazzi Voi che state all'inizio Mi raccomando Le lipo non lasciate né scariche e né cariche Mi raccomando Si rovinano Si gonfiano E poi non le usate più Questi sono i visori Che vengono dati in dotazione E sotto hanno un ingresso Diciamo con un jack Che voi lo attaccate A una presa USB tradizionale Del cellulare Di un caricatore cellulare Che tra l'altro Anche quello viene dato in dotazione Eccolo qui Vi danno questo E il cavetto per ricaricare il visore Il visore quando lo accendete Ci sarà un led rosso Che indica la ricarica Quando il visore è carico Il led rosso si spegne Veniamo alla radio La radio è una TX12 Una radio master Una radio molto carina e molto economica Che la userete per molto tempo Tralasciando questo All'interno Questa radio Viene fornita Con delle batterie Due batterie All'ion Ioni di litio Che però Non dovrete avere Un caricatore a parte Perché le ion Si caricano a parte Però Questa radio Può caricare Le batterie Quindi basterà Attaccare Un Connettore USB-C A questa porta Attaccare il cavetto A un caricatore Del telefono Lo potete caricare Anche col caricatore Del telefono Si accenderà Il tastone Rosso Quando si spegne La radio a carica Un'altra operazione Necessaria da fare E controllare Il drone E poi finirlo Di montare Perché vi arriva Mezzo montato Con sto pennacchio Che sta un po' così Però diciamo Per montare il drone Sarà semplicissimo Perché bisognerà solamente Svitare queste due Vitarelle qui sopra E mettere due cannucce Sui filetti della radio È un'operazione Abbastanza banale Non voglio farvi vedere questa Ma voglio farvi Entrare nel mondo Del firmware Del programma Che c'è all'interno Quindi Adesso Ci spostiamo Sul tavolo Così attacco Il drone Al pc E vi faccio vedere Due cosette Oh mi raccomando Non ve ne andate Perché finite tutte queste premesse E queste prove Lo andiamo a provare La prima cosa che faccio Io è sempre andare A rimuovere Le eliche Prima che Mi metto a giocare Sul pc Con il drone Perché non succede niente Però Stiamo più sicuri La cosa che andremo a fare Subito E andare a attaccare Il drone Tramite Il cavetto Micro usb Questo non ve lo danno In dotazione Ma è un cavetto usb Micro usb Dei telefoni tradizionali E automaticamente Il configuratore Rileva la porta Di comunicazione E apre L'interfaccia Di betaflight Se è la prima volta Che vedete Il configuratore Betaflight Ci sono molti video A riguardo Dove Viene spiegato Betaflight L'ho spiegato anch'io In alcuni video Di build Quindi semmai Vi lascio qui sotto In descrizione I video Dove parlo Di betaflight La cosa che voglio Andarvi a far vedere Io Adesso E se il drone È pronto Per il volo Questo cosa significa Significa andare a vedere Prima cosa Se riceve I segnali Della radio Quindi Accendo La radio Tenendo premuto Il tastone Per avviare la radio Sempre per un fattore Di sicurezza I switch Devono stare Tutti In giù Quindi vi Uscirà un messaggio D'errore Li tirate tutti giù Il gas Tutto giù E allora La radio Si accende Come possiamo Vedere Io adesso Ho solamente Acceso La radio Il modello All'interno Della radio È già creato Perché questo Vi ricordo È un kit RTF Quindi è pronto Ready to fly È pronto Per il volo Però io non mi fido E voglio andare A controllare I canali Sembrerebbero Arrivare tutti Proviamo il gas Muoviamo il gas E arriva Lo io Arriva Il pitch E il roll Vedo anche Che I set point Sono Molto Precisi Perché sono Precisamente Tutti A 1500 Che sarebbe 1500 Il centro Dello stick Un'altra prova Che andiamo a fare Sono i switch Muoviamo lo switch E vediamo che L'aux 1 Si muove L'aux 2 Si muove Il 4 Il 3 Perfetto Si muovono Praticamente Tutti A questi switch Sicuramente Saranno state Date Delle modalità Di volo Andiamole a vedere Vediamo solo Quelle che hanno Configurato Quindi Nascondiamo Le modalità Inutilizzate E vediamo Che L'arm Ok Si sta Incavolando Perché dice Guarda che c'è il pc Attaccato Non puoi armare Bene Quindi L'armo dei motori Tirando su Tutto L'aux 1 E questo sarà Si Questa è la modalità Di volo Quindi Tirando tutto Su Lo switch 2 Andremo In Angle Angle È la modalità Semi Stabilizzata Di Betaflight Il Bip Ok È L'aux 4 L'aux 3 Vedo che Non è stato Utilizzato Qui possiamo Vedere Sulla pagina Setup Principale Che il Giroscopio Sta Lavorando Bene Detto questo Ragazzi Abbiamo Controllato Tutto Sembrerebbe Funzionare Tutto Correttamente Quindi Ci spostiamo In campo Allora Ragazzi Ho attaccato La lipo Ho aspettato Un paio Di minuti Due tre Minuti Ha agganciato I satelliti Vediamo se Sono sufficienti Per partire E Ho rimontato Le eliche Mi raccomando Attenzione Quando smontate Rimontate Le eliche Cioè Hanno un verso Quindi rimontate Le come le avete Smontate Intanto Intanto ci sarà lui Che registrerà Il DVR Perché Che è successo Ho messo Una SD Dentro i visori E sembrerebbe Che la SD Non è compatibile Quindi i visori Se spengono Questa è una cosa Che mi ha detta Davide Qua dietro Ha detto Guarda che ho sentito Che ci stanno Dei bughi Su questo Su questo visore Quindi Se si spegne Perché la SD È formatata male O comunque sia Non è compatibile Quindi registrerò Lui Lui registrerà Il DVR Che vedrete Fra poco Grazie Ha preso Latitudine Longitudine Però Non prendi i satelliti Io penso Che vi eravamo Ho l'attitudine Longitudine Che è il muro Questo è il profilo Eh? Ho fatto il profilo De chi De chi attende Sembra il biacone Doviamo aspettare Devo dici pure Lo spotter Dobbiamo aspettare Oh Oh Dobbiamo aspettare Allora Siamo partiti Vediamo intanto Il DVR Vedo che Adesso che sono partito Ho preso Dieci satelliti Quindi Sicuramente Dovevamo aspettare Un pelino in più Però Vabbè Poco male Allora Intanto vediamo La trasmissione Video Ti porto un po' più avanti Che stai proprio Eh Sì Non stai messo bene Dimmi Dimmi basta Cammino 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 Vai sempre dritto Che c'è il burrone Oddio Fa pressione Perché sto sul burrone Vai 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 Ok a posto Ok Perfetto Allora Teniamo sotto controllo Anche la lipo Perché sono lipo Piccoline Così vediamo Pure Come batteria Quanto dura Adesso siamo A un minuto di volo Sto facendo proprio Una passeggiata Sono in air mod Comunque Il segnale video È buono Eh E c'è una bella antenna Sì sì C'è una bella antenna lunga Infatti quello sicuramente È buono Molto buono C'è l'antenna della VTX Che esce parecchio dal Dal frame Allora Prova a fare un punch out Proprio per vedere la potenza Che c'è a sto drone Ok Vibra Vibra E poi oscilla Pure quando Revolgas Oscilla Cadendo Quindi sicuramente I PID Sono un po' Bassini Forse sono Sì Sono un po' Bassini Un po' Troppo alte le D Forse troppo e basse le D Poi c'è ormai Il stroco a fiare No io non parlo Allora Diciamo come il volo È molto Smooth È molto tranquillo Lui Non ha Non c'ha sta potenza Esplosiva Che ti mette in difficoltà Logicamente Che cazzo è? Che ha suonato? Non lo so Non lo so Ha suonato la radio Ah Mi si era abbassato Il segnale radio Figo Mi si era abbassato Il segnale radio Stavo Aspetta Ci riprovo Massimo Facciamo un file safe Succederà qualcosa Mi giro Eccola Sì Sotto i 45 Suona la radio Quindi diciamo È un campanello d'allarme Sì Il campanello d'allarme Che stiamo andando Troppo lontani Logicamente adesso lui Se partiamo Con i satelliti Adesso io ho disabilitato L'armo dei motori Colfix dei satelliti Diciamo Se il drone parte Con i satelliti Agganciati Qualora perde il segnale radio Lui ritorna a casa In questo mio caso Non ritornerebbe Perché non ha memorizzato La posizione Dell'home Quindi non sa dove Tornare Adesso sono 10 da satelli Dunque come GPS Non è tanto performante Perché ci ha messo Veramente tanto tempo Ecco Sono ribassato Con l'RSSI Ero basso È in volo molto tranquillo Quindi non lo sto spingendo La batteria Logicamente dura di più Ma questo drone È studiato per fare questo Non è studiato per fare freestyle Non è studiato per fare Ecco Mi sei riabbassato Un po' Il segnale radio Non è studiato per fare Long range Perché non abbiamo un modulo Che ci permette Di allontanarci parecchio Quindi è un drone Per iniziare Che Così Ci approcciamo All'FPV Eccoci Vediamo La batteria ancora Ce l'ho Cioè Sto a 3,70 La batteria Davvero dura Dura tantissimo Provo a fare Non split test Proprio per vedere Diciamo Il recupero Bisogna stare attenti Comunque c'è lo spotter Che sta a fare un lavoro E creaggio Sì 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 No Sì sì no Sì sì no Sì no è fermo No gli ho detto Oh rimani lì fermo Che c'è Non ti muovere Che bisogna registrare Tutto il DVR Ecco qua Ricordo che c'è qui Con noi lo spotter Però messa sopra Una Una Issa 360 Ago Secondo me Ci escono pure Riprese carine I motori Non assorbono Praticamente niente Perché Adesso la batteria Si è fermata A 3,60 Ah poi c'è pure il bipala C'è il bipala Sì Guarda che bello sta Questo Inseguimento del tubo Bellissimo Facciamolo a salire Bello Così E riscendiamo Bello La strada Risaliamo Adesso atterro Perché sono arrivato A 3,55 Quindi Possiamo atterrare Sono a 9 minuti E 10 secondi Quindi I 10 minuti Sicuramente Se portiamo la lipo Al minimo Quindi a 3,50 Ce li portiamo a casa Io non mi ricordo Dove sta Il tasto Del disarm Quindi Ho paura Qual era Questo Ok Penso Da aver preso Lo switch Buono Non so Che cosa Fanno i switch Non metti I fersini Tartum Guarda No era quello Ho fatto pure la capriola Perfetto Segnale video Egregio Non abbiamo Non ci possiamo spingere Tanto con Il segnale radio Perché Come avete visto Suona E c'è rischio Del file safe Insomma Morale della favola Ve lo consiglio Non ve lo consiglio Non lo so Perché Con quei problemini Non è che poi alla fine Mi è piaciuto più di tanto Il gps Ci mette Troppo tempo Per prendere i satelliti Il visore Che non Registra E se metti la sd Si spegne Il drone Che Per quanto può essere buono Ma è fragile Io Sì è vero Io Ho un paio dei bracetti Di ricambio Sì Questo è vero Ragazzi Scrivete qui sotto Nei commenti Che ne pensate Io comunque sia Vi lascio Il link qui sotto Di banggood Se volete Andarlo a vedere Se volete vedere Quanto costa E Non scordatevi Di iscrivervi al canale Attivare la campanella Mettere un bel like Se il video vi è piaciuto E fa troppo caldo Ciao